ciao a tutti bentornati sull'antimeta sono il lorenz e oggi sono da solo per l'ultimo giorno perché poi da domani riusciremo a registrare insieme a che robe gli unboxing gli unboxing di avanzata delle macchine l'indomani ovvero di aftermath mini espansione che racconta le trame successive agli eventi di avanzata delle macchine mini espansione perché sono solo 50 carte e le buste sono delle buste epilogo con all'interno 5 carte questa espansione comprende soltanto carte mitiche rare e non comuni quindi togliamo la rarità comune da questa busta costano bene o male uguali alle buste normali ma c'è una probabilità di trovare rare e mitiche più alta perché avremo tre carte rare o mitiche e due non comuni oggi vi volevo parlare anche se non c'è che robe degli spoiler visto che è il giorno dell'uscita e domani vi apriremo due bundle quindi domani vedrete un bundle e poi prossimamente vediamo se domenica o settimana prossima il secondo e niente ci tenevo a ricordarvi che quindi da oggi è disponibile nei vostri negozi di fiducia oppure sul fantasia trovate i link in descrizione nel caso non abbiate un negozio di fiducia e io vi consiglio siccome una mini espansione di prendere un bundle primo perché costa costa meno rispetto agli altri bundle e anche perché insomma comunque le carte sembrano veramente belle adesso andiamo a vederle insieme io non mi addentro a valutare la lore anche perché non la so bene non la conosco bene ma comunque vediamo tanti personaggi nuovi e la maggior parte sono planeswalker che da quello che ho capito hanno perso la scintilla e sono rimaste delle creature leggendarie quindi sono diciamo pane per i nostri denti da comanderisti niente vi invito anche quindi a farci sapere nei commenti qual è il vostro comandante preferito quello che vorreste utilizzare come comandante o nei vostri mazzi allora diamo una d'occhiata qui abbiamo carne costa 5 a un xx quando la sua forza costituzione sono pari al al valore maggiore di mana tra gli artefatti che controlli ottimo e all'inizio del tuo mantenimento aggiungi un incolore c'è un mana incolore per ogni artefatto che controlli questo mana non può essere speso per lanciare magie non artefatto e fino alla fine del turno non lo perdi tra una fase e l'altra quindi secondo me è top comandante per un mazzo colorless artefatti veramente veramente forte veramente forte diremo chissà cosa ci andrà a far vedere questo questo carne altra carta interessante narset in lightened exile come sempre il mio inglese fa schifo allora ha i colori geskai quindi blu rosso bianco e un incolore e un 34 le creature che controlli hanno prodezza quindi tanta roba ogni volta narset attacca esiglia una creatura no una target una magia non creatura non terra con valore di mana inferiore alla forza di narset da un cimitero from a graveyard quindi da un cimitero e copiala quindi anche dal cimitero degli avversari e possiamo lanciare la copia appunto senza pagare il costo di mana quindi tanta tanta roba tivard bellicoso immagino costa 4 è un 5 4 ogni col volta uno più elfi che controlli attaccano guadagnano dettac fino alla fine del turno e ogni creatura che controlli ha ogni col volta è un'abilità di mana e di questa creatura si risolve metti un numero di segnini più 1 più 1 su di essa pari al numero di mana che questa creatura ha prodotto e questa abilità trigger solo una volta per turno questa è un'abilità che guadagnano le creature quindi ogni creatura una volta per turno quando attingerà mana ci metterà su dei grossi segnalini mi vengono ovviamente delle combo pazzesche con carte che attingono mana pari ai segnalini che hanno sopra quindi veramente veramente interessante questo tivar versione creatura leggendaria poi abbiamo samut costa 3 un verde un rosso 2 3 attacco improvviso cautela e rapidità come sempre bella carica di abilità e ogni col volta una creatura che controlli fa danno da combattimento un giocatore se quella creatura è entrata nel campo di battaglia in questo turno pesca una carta quindi premia le nostre creature rapide calyx costa 3 un verde e un blu un verde e un bianco scusate un 2 2 costellazione quindi quando calyx ha perché è anche una creatura leggendaria incantesimo oltretutto quindi quando lui o un altro incantesimo entrano nel campo di battaglia subito controllo metti un p1 p1 su una creatura bersaglio l'unica volta calyx una creatura incantata che controlli fa danno da combattimento a un giocatore può creare un token che è una copia di un incantesimo non leggendario che controlli e fai questo solo una volta per turno allora molto molto interessante il fatto che allora intanto si potenzia quando entrano gli incantesimi o comunque potenzia la nostra creatura che vogliamo riempire di aure perché di questo stiamo parlando incantesimi incantesimi aura visto che possiamo a me viene in mente di farlo incantesimo di fare le aure perché mettiamo giù delle aure gliene diamo il doppio quindi gli effetti si attivano il doppio si potenziano il doppio quindi mi sembra veramente veramente forte come comandante di questo tipo diciamo voltron dove si potenzia solo una creatura nairi forgiata in furia forgia di infiori spero sia così costa tanto costa 6 di cui un rosso un bianco affinità per gli equipaggiamenti ottimo costa un in meno quindi per ogni equipaggiamento che controlliamo è un 5 e 4 ogni col volta una creatura equipaggiata che controlli attacca esiglia la prima carta del tuo grimorio puoi giocare quella carta in questo turno e puoi lanciare gli equipaggiamenti in questo modo senza pagare il loro costo di mana allora niente scherzavo è veramente forte perché se mettiamo in campo gli incantesimi gratis veramente veramente potente sono dei comandanti interessanti al momento poi abbiamo chiora costa 5 un verde e un blu 4 5 cautela world 3 quindi egida 3 ogni qual volta ti lanci un kraken un leviatano un octopus un serpente dalla tua mano guarda le prime x carte del tuo grimorio dove x è il valore di mana di quella di quella magia e puoi lanciare una magia con costo di mana inferiore a x tra di esse senza pagare il suo costo di mana metti il resto in fondo il tuo grimorio quindi tanta roba perché fa un classico effetto diciamo alla rajmi c'è noi lanciamo una bestiaccia del mare e mettiamo in campo comunque lanciamo qualcos'altro che costa meno dal grimorio quindi paghiamo li paghiamo tanto di solito questi tipi di creature però ci permettono di fare un doppio un doppio valore tanta roba in più ha egida 3 quindi si protegge da sola obnik silis che tanti hanno già captive kingpin kingpin non so cosa significa ma mi sembra il nome del cattivo di spider-man in più all'aria da thanos quindi deve essere proprio un cattivone questo obnik silis costa 4 un nero e un rosso 4 3 volante travolgere e ogni qual volta uno o più avversari perdono esattamente un punto vita mettiamo un più 1 più 1 su obnik silis esiglia la prima carta del tuo grimorio fino alla fine del prossimo turno puoi giocare quella carta quindi interessantissimo come comandante perché come tanti mazzi ragdos si basa a secondo me l'idea è farlo dove accumuli carte che fanno un leggero vantaggio ogni turno quindi carte che fanno dei piccoli dannini che messi insieme sommate ne fanno tanti in più obnik silis grazie a questi effetti si potenzia con dei più uno più uno è volante e travolge quindi punta a chiudere da danni da comandante se non funziona il piano di fare tanti dannini sommati c'è anche sharkan tra quelli dei come i planeswalker senza scintilla colori izet quindi un incolore un blu è un rosso è un 2 4 le magie drago che lanci costano un in meno per essere lanciate quindi è un amore per i nostri mazzi con lord dragon o comunque con tutti i draghi ogni volta un drago entra nel campo di battaglia sotto controllo puoi fare in modo che sharkan diventi la copia di esso fino a fine del turno tranne che il suo nome è sharkan solo affiniti e non è leggendario in aggiunta ai suoi altri tipi quindi tanta tanta roba che perché diventando una copia non ha debolezza di evocazione perché già in campo nissa resurgent animist questa l'avevo vista negli spoiler nei primi giorni mi sembrava forte costa 3 un 3 3 landfall quando una terra entra nel campo di battaglia sotto controllo aggiungi un mano di un qualsiasi colore poi se questo mano è no poi se questa è la seconda volta che se questa abilità si è risolta per la seconda volta in questo turno rivela carte dalla cima del tuo grimorio fino a che non riveli un elfo o un elementale metti quella carta nella tua mano e il resto in fondo il tuo grimorio in qualsiasi ordine è fortissimo perché intanto costa 3 ed è un 3 3 è un elfo quindi va bene in tutti i mazzi elfi e l'unico problema è che appunto landfall con gli elfi non si incastra benissimo eccolo sì nel mazzi mono elfi non si incastra benissimo perché quando una terra entra solitamente nei mazzi elfi fai sempre soltanto un una terra per turno quindi questo è un po un minus però nei mazzi appunto elementali quelli con onmat mi sa che fa il diavolo a 4 questa nissa poi altra serie di creature leggendarie abbiamo un nivmizet supremo naturalmente costa pentacolor è un 5 5 con volare e antimalocchio dai monocolori e ogni istantanea stregoneria nel tuo cimitero che è esattamente di due colori a jumpstart ricordiamo che jumpstart è un'abilità che dice puoi lanciare questa carta dal tuo cimitero scartando una carta in aggiunta sui altri costi ed esigliala quindi rilanciamo le stregonerie dal cimitero che sono di due colori esatti scartando una carta alla mano e pagando il loro costo di mana quindi ci sta non mi sembra esagerato ma mi sembra quello meno avvincente dei comandanti fino adesso ma comunque insomma si può fare qualcosa di pericoloso specie per i fan di ravnica che amano giocare tutte le carte bicolor poi abbiamo nasci moons legacy colori sul thai quindi nero verde e blu esattamente 3 è un 3 4 minacciare e g da 1 ogni colvolta attacca esiglia fino a un target legendary o rat card quindi è una creatura a una carta leggendaria o ratto dal tuo cimitero e copiala quindi è importante che dice target legendary card quindi non per forza una creatura dal cimitero e copiala puoi lanciare la copia e comunque si dice puoi lanciare però dovrai pagare i costi di mana quindi anche questo è carino ma non non è tutta questa gran cosa poi abbiamo rocco lo street chef che sembra che mi sembra che venga da nuova capenna se non mi sbaglio costa 3 sempre rosso verde bianco i colori di naia è un 2 4 all'inizio della tua sottofase finale ogni giocatore esiglia la prima carta del proprio grimorio fino al tuo prossimo turno fino fino alla tua prossima in step o un giocatore può giocare la carta esiliata in questo modo quindi dai un vantaggio anche agli altri ogni colta un giocatore gioca una terra dall'esilio o lancia una magia dall'esilio metti un più uno più uno su una creatura una creatura avversario quindi naturalmente una tua solitamente e crea un food token ok non mi fa impazzire qui si vede che siamo calati a livello di di rarità cioè quelli di prima erano mitici si vedeva che erano molto più forti queste prime tre sono solamente rare e si sente che la differenza si sente bene piena lar console of revival costa 2 di cui bianco e rosso è un 2 3 quindi buono buono i totteri che controlli hanno rapidità ogni col volta giochi una terra dall'esilio o lanci una magia dall'esilio crea un totter 1 1 token con volare ok mi fa piacere si probabilmente lavora con le carte rosse che esigli e poi che ti fanno esiliare dal grimorio giocare nei prossimi turni ci può stare carina niente di speciale secondo me poi abbiamo sigarda costa 4 un bianco e un verde un 4 4 volante gli altri permanenti che controlli hanno exproof puoi guardare la prima carta del tuo grimorio in qualsiasi momento e puoi lanciare gli angeli e gli umani dalla cima del tuo grimorio quindi è carta interessante interessante sigarda non è male non è male poi io ho un debole per le carte che ti fanno guardare la prima del grimorio e lanciare qualcosa dalla cima del grimorio perché ti allungano un po la mano e questa cosa non fa mai mai schifo girina girina che mi sembra che non la vediamo da dai mazzi commander non vorrei dire una bestiata fatemelo sapere un bianco nero 2 2 quando entra nel campo di battaglia esiglia il cimitero di un giocatore che è una cosa molto interessante specie perché queste carte sono valide anche nei formati a 60 carte quindi standard modern pioneer sacrifica girina gli umani che controlli hanno exproof indistruttibile fino a fine del turno ottima anche questa perché basta sacrificarla per proteggere tutti joel real voce di zalfir costa 4 un 3 3 all'inizio del combattimento nel tuo turno fino a una terra bersaglio diventa un elemento diventa un uccello rosso scusate verde e blu xx con volare e rapidità fino a fine del turno dove x è il numero di carte nella tua mano è ancora una terra ogni volta una terra creatura che controlli infilizzando il combattimento un giocatore pesca una carta ok niente di eccezionale secondo me però fa cose classiche che fanno questi colori fa pescare ma non è una cosa che mi fa impazzire trasformare le terre in creatura danita la luce di nuova benaglia costa 3 sempre un bianco un verde un 2 2 e a cautela travolgere e lifeling e già così è bella carica e mi piace una volta durante ogni turno ogni tuo turno puoi lanciare un aura un equipaggiamento dal tuo cimitero quindi ci sta carta carina carina finora secondo me una delle migliori rare insieme magari anche a girina buono niente da dire si può fare un comandante sì niente di sconvolgente ma una buona carta e the kenry's royal funeral questa è una delle prime carte spoilerate un incantesimo leggendario che costa 4 con i colori orzov quando entra nel campo di battaglia esiglia fino a due creature leggendarie dal tuo cimitero peschi x e perdi x vite dove x è il valore di mana maggiore tra le carte esiliate in questo modo e le magie leggendarie che lanci costano un in meno per essere lanciate per ogni carta esiliata con i kenry's royal funeral quindi solitamente dovrò costare due in meno in teoria perché esiglia fino a due target legendary creators quindi se ne esigli due costano due in meno le tue magie leggendarie che non è male non è male viene in mente in diada il commander di dominare a unita ci sta un sacco secondo me aspetta si era colori mardo quindi ci sta poi incantesimo una iris resolvo costa 5 di quei colori boros le creature che controlli prendono più o più zero e rapidità onesto all'inizio del tuo stato fase finale esiglia un qualsiasi numero di non token artefatti o creature che controlli rimetti quelle carte sul campo di battaglia sotto il controllo dei propri copertari inizio la prossima a keep quindi viva il blink rebuild ricostrui la città colori odio giunto costa quindi nero rosso verde e altri tre scegli una terra bersaglio crea tre token che sono una coppia di essa eccetto che sono dei tre delle creature 3 3 in aggiunto ai suoi altri tipi hanno cautela e minacciare quindi tanta roba perché sono ti fa tre terre in più che mi che picchiano minaccianti con cautela quindi attaccano e poi tappi per attingere mana ottimo rinnovare il campus renovation stragoneria che costa 5 sempre due colori boros ritorna fino a un artefatto bersaglio hanno artefatto o incantesimo bersaglio dal tuo cimitero sul campo di battaglia quindi rianimi artefatto o incantesimo esiglia le prime due carte del tuo gremorio fino alla fine del tuo del tuo prossimo turno puoi giocare quelle carte quindi carta che costa tanto fa tutto ma costa parecchio poi cosmic rebirth costa 3 di cui un verde un bianco istantaneo scegli un permanente bersaglio nel tuo cimitero se quel se ha mana se ha costo di mana tre o meno puoi mettere sul campo di battaglia se non puoi metterlo nella tua mano in più fai tre vite quindi ci sta ci sta un rianimino leggero onesta insomma non è una carta scarsa neanche così sconvolgente insomma si può giocare in parecchi mazzi commander può tornare utile fest of victorius dead costa 2 incantesimo di cui nero c2 sono nero e bianco all'inizio della tua sottofase finale se uno più creature sono morte in questo turno guadagni altrettante vite distribuisci altrettanti segnalini più uno più uno tra le creature che controlli buono goldforge top terix quindi un tottero dinosauro qui diciamo miscugli di coria se di coria di di xalan e e caladesh naturalmente costava due di cui un bianco e un blu è un 1 3 volante lifeling legame vitale ogni permanente leggendario che controlli a egida 2 quindi anche questa è una carta interessante molto secondo me poi qui cosa abbiamo le carte monocolore ok diamogli un'occhiatina veloce qui abbiamo dai non guardiamole tutte perché sennò stiamo qui veramente una vita e rischio di annoiarvi allora beh tazzri star wars survivors umano guerriero costa 3 ogni creatura che controlli a tappa aggiungi un mana di un qualsiasi colore di questa creatura spendilo solo per attivare abilità tutti e abilità per attivare abilità di una creatura e attivo lì attiva solo se questa creatura a e nader attiva aspetta che qui è complicata ogni creatura a tappa aggiungi un mana di un qualsiasi colore spendi questo mana solo per attivare abilità di una creatura e attiva questa abilità solo se questa creatura ha un'altra abilità attivata quindi è un macello in sostanza poi tappi penta e tazzri milla cinque carte metti tutte le carte creatura con abilità attivate che non sono abilità di mana tra di esse tra le carte millate nella tua mano insomma è un casino questa carta non mi piace mi piace non te le mette neanche in gioco devi avere un casino per giocarla no no pessimo comandante secondo me poi magari fa delle combo pazzesche però training ground questa mi sembra forte perché un incantesimo costo 1 che dice le abilità attivate delle creature che controlli costano 2 meno per essere attivate questo effetto non può ridurre il mana non può ridurre il costo a meno di un mana naturalmente chiaro non puoi fare le abilità attivate gratis almeno un mano dovrei sempre pagare ci sta vediamo al volo se c'è qualche altra carta interessante comunque non sono non sembrano malvagie costa 3 istantaneo ritorno a tutte le non creature non terra in mano i loro proprietari carina carina può essere una carta interessante perché non creature non terra rimbalzi planeswalker a manetta ci può stare rimbalzi anche tutti i tesori i bloc token quelle cose lì che ultimamente danno fastidio vediamo qui se c'è qualcosa di interessante copper coat vanguard costa 2 on 2 2 ogni altro umano che controlli a più 1 più 0 e e g da 1 quindi carina un mazzo umano soldati tanta roba un dinosaurino una terra tappa aggiungi in colore tappa 2 lei metti due segnali più o più 1 su una creatura non umano che è entrata nel campo di battaglia in questo turno ci può stare niente di sconvolgente naturalmente niente comunque dai questo set è un esperimento io sinceramente mi auguro che non ne facciano più di questi esperimenti perché sono a buste da 5 carte non si possono draftare allunghi dopo per allunghi l'uscita di un prodotto dopo perché da marcia o the machine a marcia o the machine in domani insomma io mi auguro che sia una bella trovata a livello di lore ma che non venga più riproposta in futuro perché mi sembra veramente un po' un eccesso niente io direi che dopo avervi stufato per 20 minuti vi do appuntamento a domani agli unboxing insieme al buon vecchio che robe che troverà tutte le carte che volete trovare perché le troverà tutte lui e voi rimarrete senza naturalmente bene ragazzi vi aspettiamo come sempre qua sull'antimeta al prossimo video grazie a tutti